se dovessi definire uno dei tratti fondamentali della nostra epoca è che è un'epoca di ipercomplessità e di grandi shock. Ciao Raffaele, benvenuto al podcast. Ciao Daniele, grazie per l'invito. Senti, cosa sta succedendo nello spazio? C'è una nuova corsa ai cieli, all'universo? C'è una nuova dimensione geopolitica? Sì, c'è in questo momento un fenomeno di forte dinamismo nell'ambito dello spazio, quindi si parla di space economy o di spazio 2.0. L'interazione tra più forze, leve di costo, leve geopolitiche, leve legate alla prevalenza sempre maggiore del settore privato, stanno portando questo settore a una crescita enorme negli ultimi anni. Do qualche numero per farti capire. Nel 2021 ci sono stati diversi record. C'è stato il record di lanci con circa 146 lanci di razzi verso lo spazio, il record di satelliti lanciati circa 1.800 e tenendo conto che nella storia dell'esplosizione spaziale ne sono stati lanciati 12.000, quindi fate la proporzione, record di esseri umani simultaneamente nello spazio e per quanto riguarda il mio settore il record di investimenti nel venture capital, quindi investimenti privati ad alto rischio in questo ambito, quindi veramente un forte dinamismo. Ok, agli investimenti ci arriviamo dopo. Intanto volevo chiederti quali sono a livello proprio appunto geopolitico le nazioni che sono impegnate in questa corsa allo spazio? Immagino ce ne erano gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa. Partiamo dagli Stati Uniti. Com'è la situazione? Allora, gli Stati Uniti hanno vissuto una curva interessante perché 10-12 anni fa era un momento di forte disillusione nei confronti degli investimenti e dell'esplorazione spaziale, nel senso che c'era il famoso programma shuttle che era entrato in dismissione, i primi esperimenti dei baroni dello spazio, cioè Bezos, Musk, eccetera, andavano a rilento e i budget di fatto erano compromessi, i budget della NASA. Cinque, sei anni fa invece c'è stata una nuova curva di crescita portata avanti sia dagli investimenti privati ma anche poi dalla nuova conflittualità geopolitica che è molto importante. Oggi gli Stati Uniti rimangono il paese con maggiori capacità e investimenti in questo ambito, sia civili che militari, ma il mondo sta cambiando rapidamente e tante nazioni si stanno esponendo in questo ambito e cercano di acquisire capacità indipendente di telecomunicazione, posizionamento, di lancio e di tutte le tecnologie chiave in questo ambito. Cosa c'è di così interessante lassù? Perché vale la spesa? Allora, ci sono diverse dimensioni da prendere in considerazione. La prima è la dimensione puramente scientifica, quindi l'esplorazione spaziale per comprendere l'universo, per comprendere la natura. Quindi questa cosa è utile in modo per seguire la conoscenza e per capire meglio la composizione anche del nostro pianeta, del sistema solare, dell'universo. C'è una seconda ragione di natura economica, nel senso che l'infrastruttura spaziale, specialmente quella in bassa orbita, è alla base di molte applicazioni terrestri dirette. Quindi noi quando usiamo sistemi di telecomunicazione, quando usiamo un'app e apriamo Google Maps e c'è un sistema di posizionamento, quando guardiamo le previsioni del meteo, stiamo usando tecnologia spaziale monodiretto. Poi c'è un'altra dimensione che è quella invece delle applicazioni indirette, cioè nel senso che essendo un ambito di frontiera che porta a uno stretch, diciamo porta al limite tutta una serie di condizioni, sia umane quando ci sono astronauti, ma anche per condizioni fisiche quando ci sono satelliti o altri tipi di infrastruttura, bene, questo porta a delle ricadute tecnologiche a Terra e a dei sistemi che possono essere usati anche a Terra. Faccio qualche esempio, gli astronauti che si trovano nella Stazione Spaziale Internazionale utilizzano tecnologie mediche di avanguardia, che poi hanno un impatto a Terra, di ortopedia, di medical imaging e così via. Fanno esperimenti scientifici in orbita, quindi tu cerchi di capire per esempio in questi esperimenti come si evolvono le culture batteriche, come si avvolgono le proteine, con delle applicazioni poi nelle scienze della vita del nostro pianeta. Quarto elemento, ci sono tutta una serie di nuove applicazioni che oggi sono un po' anche il cuore della space economy di nuova generazione, quindi si utilizzano queste masse enormi di dati prodotti da satelliti per l'agricoltura, per l'irrigazione, per la protezione dell'ambiente, per il monitoraggio infrastrutture, per la logistica, per l'internet of things e poi, ultimo ambito che è sempre esistito ma oggi è sempre più importante, per la sicurezza perché chiaramente l'intelligence utilizza poi questo tipo di dati. Senti, infatti adesso non me ne viene in mente neanche uno, però sapevo che nel passato c'erano, cioè è sempre stato così con lo spazio, c'erano già diversi esempi delle missioni lunari, eccetera, di tecnologie che erano state scoperte lì e poi applicate, che ormai fanno parte della nostra quotidianità, anzi non sono neanche particolarmente nuove più. Mi fai, sai qualche esempio di quel periodo? Beh, ce ne sono diversi, a partire da elettronica, materiali, diciamo tante, l'industria dei semiconduttori, ci sono diversi ambiti che hanno avuto questo tipo di accelerazione grazie a una spinta di ricerca di base nel portare poi, di ricerca applicata nel portare poi queste missioni a compimento. Però secondo me la cosa interessante, questo è l'elemento che si cita più spesso, però mi interessa focalizzare proprio, cioè ci sono applicazioni proprio dirette che noi usiamo ogni giorno e non ci rendiamo conto che stiamo utilizzando. Esatto. Questa forse è la cosa più divertente. E poi un altro ambito che secondo me vale sottolineare è quello della fusione tra l'infrastruttura di internet e l'infrastruttura spaziale. Cioè questi due ambiti si stanno agganciando sempre di più e oggi tutte le principali tech companies, quindi Google, Apple, Facebook, Amazon, Tencent e così via, stanno acquisendo startup e imprese legate allo spazio o stanno lanciando le loro missioni satellitari e quindi tu hai Amazon o Microsoft che hanno il loro servizio cloud legato anche allo spazio, hai Facebook che lancia le sue missioni, hai la costellazione Starlink di Elon Musk per l'accesso a internet che diventerà una cosa molto importante nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi questo secondo me è un tema anche molto interessante che avrà un impatto diretto sulle nostre vite. A grandi linee lì come funziona? Cioè nel senso, vengono spedite da queste aziende dei piccoli satelliti o dei grandi satelliti, non so, dei satelliti che poi forniscono la connessione a internet sulla Terra in determinate zone, cioè sono loro stessi a spedirsi i satelliti in orbita, come funziona? Beh allora nel caso di Starlink sì, perché SpaceX è un'azienda multiforme che ha sia capacità di lancio, sia capacità di produrre altre tecnologie, in questo caso anche la sua rete satellitare e proprietaria. Nel caso di altri invece no, tu utilizzi delle società di servizi che organizzano i lanci e ti consentono di portare il tuo payload, il tuo carico in orbita per fare poi gli scopi che ti servono. La tendenza interessante in questo momento è che, ed è uno dei fattori abilitanti, è che oggi il costo per portare un chilogrammo di materia, persone o cose, in orbita sta decrescendo in modo rapido. Quindi qualcosa che era di milioni di dollari anni fa, poi è diventato di centinaia di migliaia, oggi nell'ordine di decine di migliaia circa, scenderà presto alle singole migliaia e forse anche meno con le nuove tecnologie. Quindi questo è importante perché il costo per portare gli oggetti in orbita era una delle barriere fondamentali per la costruzione di applicazioni civili nello spazio e il fatto che oggi si stia abbattendo crea un incertivo molto potente anche per piccole organizzazioni, start-up, gruppi di studenti nel provare a fare esperimenti. Una seconda cosa molto importante è anche che il costo proprio dell'hardware spaziale, prima parlavi di grandi satelliti. Quelli serviranno sempre, ma la cosa interessante è che oggi è possibile usare dei cosiddetti nano-satelliti o alcune forme particolari chiamate CubeSat che sono come i mattoncini Lego che si montano persino anche in moduli che hanno proprio 10 cm di lato, circa un chilo di peso e sono un po' come gli smartphone dello spazio. Sono a basso costo, possono fare magari non tutto quello che può fare un grande satellite, ma costano molto poco e soprattutto sono costi che si stanno riducendo nel corso del tempo. Quindi costa sia meno l'oggetto, sia meno portare in orbita e questo amplifica enormemente l'accessibilità. Ultima nota, scusa, su questo. Ah, figurati. I satelliti, scusa, perdona, i lanciatori, i razzi riutilizzabili. Quindi noi oggi abbiamo in modo sistematico dei sistemi di lancio, dei razzi, che sono riutilizzabili, possono atterrare di nuovo in modo a terra e poi essere riutilizzati. Bene, questa cosa qua, che può sembrare semplice, era pensata come quasi impossibile fino a pochi anni fa. SpaceX l'ha resa norma e il fatto di poter riutilizzare un razzo anche solo 7, 8, 10 volte comunque abbatte enormemente i costi. Immagina quanto costerebbe il biglietto di un aereo o il biglietto di un autobus se tu dovessi distruggere l'autobus o l'aereo per ogni singolo viaggio. Quindi anche solo un riutilizzo limitato cambia completamente. Quali erano i problemi tecnici maggiori per cui non si riusciva a riutilizzarli? Quali erano i problemi con l'atterraggio? Gli aerei già atterravano perché un razzo destinato all'orbita terrestre era invece più difficile da far atterrare? Ma ci sono sia problemi di natura diciamo fisica e ingegneristica perché chiaramente atterrare un aereo non va ad alta quota cioè non va ad alta quota ma non va oltre la linea di Kármán e non deve, cioè circa 100 km oltre il suolo e non subisce quello stress fisico che ha un oggetto quando va a quote molto elevate soprattutto va in orba, va nello spazio e poi deve rientrare. Quindi già quello stress fisico è una cosa molto importante ma poi c'è anche un elemento software perché per far rientrare in modo controllato quel tipo di oggetto quando parte da velocità molto elevate temperature molto elevate non è affatto semplice e quindi è uno sforzo combinato in cui c'è stato uno sforzo lato diciamo di ingegneria e di hardware ma anche uno sforzo di software molto molto rilevante che è stato tra gli elementi che ha portato SpaceX a raggiungere questo traguardo e ora anche altre aziende. C'era anche una questione di capacità di calcolo diciamo che prima era sufficiente? Direi non tanto di capacità di calcolo quanto proprio di algoritmi. La cosa interessante è che diciamo come altri ambiti come l'automotive anche l'industria dello spazio oggi è sempre più innervata dal software e dagli algoritmi. cioè il quotiente intellettivo della materia sta aumentando progressivamente e tu puoi utilizzare questo hardware in modi diversi e in modi più veloci meno costosi e più utili proprio grazie al fatto che diventa ibrido sempre di più col software. Certo. E' anche una questione poi di evoluzione immagino dell'algoritmo di pulizia, di eleganza dell'algoritmo più efficiente meno poi capacità di calcolo ti serve probabilmente. Cioè sempre si fa per dire meno però insomma è sempre tantissima però diciamo la usi meglio. Sì, diciamo questo è come tutte le cose è il frutto di una combinazione di più fattori. Se parliamo per esempio degli algoritmi di machine learning tu hai la combinazione di vari fattori hai questi grandi data center creati da Google, Amazon e così via che forniscono la potenza e spesso hanno hardware specializzato. Hai gli ultimi decenni di ricerca specialmente sul deep learning e reti neurali che ti portano a un avanzamento specifico e poi anche una maggiore consapevolezza. Cioè oggi c'è anche maggiore attenzione a questi aspetti perché si capisce che sono fondamentali. Senti ma per capire anche da punto di vista proprio spaziale se mi passi in termine di cosa stiamo parlando com'è strutturata cioè lo spazio oltre diciamo l'altitudine a cui come dicevi tu prima vanno gli aerei normali insomma quelli che prendiamo tutti poi a salire come funziona? Cioè quali sono i nomi e i livelli che ci sono che interessano questa corsa orbitale? Certo allora il permettendo che non sono uno scienziato quindi non sono una persona perfetta migliore precisa per fornire queste definizioni però per chiarire il limite di cui parlavo prima non è tanto quello non è il limite oltre il quale possono andare ieri che in realtà è più in basso la linea di Kármán è il limite oltre il quale diciamo ufficialmente puoi dire che sei un astronauta se la superi ok? Cioè oltre quello in cui tu puoi diventare di essere diciamo stato effettivamente nello spazio forse la tematica interessante se parliamo di applicazioni sono le orbite nel senso che esistono diverse tipologie di orbite quella oggi di maggiore interesse è la cosiddetta low earth orbit cioè la bassa orbita che va da poche centinaia di chilometri sopra la Terra ad alcune migliaia di chilometri sopra la Terra ed è quella in cui questi satelliti molto piccoli tendono a essere collocati poi esistono tanti altri tipi di orbite un altro molto importante è quella della cosiddetta orbita geostazionaria che però è molto più lontana rispetto alla bassa orbita e poi diciamo ci sono dei punti particolari che sono i punti lagrangiani che sono dei punti di equilibrio tra corpi celesti che stanno assumendo un ruolo sempre maggiore nella geopolitica perché sono dei punti in cui tu puoi mettere come delle boe degli oggetti che rimangono statici e quindi diventeranno come i canali o i capi per quanto riguarda la navigazione marittima come dei fari potenzialmente verosimilmente contesi in futuro perché non ci entra non ci può stare tutto e chi li raggiunge potrebbe dire non voglio altri in quel posto e questi dove sono? ce ne sono allora ce ne sono un numero limitato per ogni gruppo di corpi celesti quelli più rilevanti per noi sono quelli che si sono legati al sistema terra luna e ce ne sono diciamo un sotto insieme molto piccolo che sono rilevanti per la costruzione di applicazioni normalmente sono 5 ok e lì sono tutti 5 vuoti attualmente o sono già occupati? no non sono occupati diciamo in modo permanente però è possibile che lo saranno ok e cosa ci puoi mettere in una stazione orbitale un satellite un benzinaio esatto ci puoi mettere sia oggetti che possono servire per la costruzione di servizi nello spazio diciamo questo è un tema molto futuristico di cui ormai tanti si stanno occupando cioè quello il tentativo di costruire sistemi per prolungare la vita dei satelliti per renderla più per aggiornarli per ripararli o dei punti di osservazione sia per scopi civili che per scopi o di ricerca scientifica sia per scopi di difesa o altre cose che oggi non possiamo neanche immaginare ok e quindi diciamo la lotta no ma aspetta una cosa volevo chiederti prima ma se io voglio spedire in orbita in questa orbita bassa di cui parlavi prima di questi mini satelliti componibili diciamo posso farlo liberamente cioè nel senso lo spazio è allo stato attuale di tutti cioè nella misura in cui ho i mezzi tecnici ed economici di farlo posso farlo o c'è un'autorità diciamo che internazionale che mi dice tu questo puoi spedirlo oppure no 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 ci sono ci sono delle autorizzazioni che tu devi avere non puoi farlo attualmente in modo libero e in generale tutto ciò che riguarda lo spazio aereo anche non spazio in senso generale è fortemente controllato fortemente regolato cioè anche se usi un drone hai forte hai alcuni limiti alcune tematiche che devi risolvere ci sono strutture normative differenti rispetto allo spazio aereo e lo spazio diciamo oltre oltre l'atmosfera perché hanno dei modelli diversi però non è una cosa che tu puoi fare diciamo nel tuo cortile in modo indipendente senza chiederlo a nessuno ok che mi dicevi appunto negli Stati Uniti c'è stato un po' una ripresa dell'attività spaziale perché secondo te allora come dicevo c'è stato un incentivo economico molto potente perché è stato sono state abbattute alcuni anni fa alcune barriere per effettuare operazioni commerciali e attività commerciali nello spazio questo ha portato una grande proporzione di fondi crescente verso gli investimenti nell'ambito dello spazio quindi tu trovi le principali grandi aziende ma anche tanti fondi di investimento che stanno collocando risorse in questo ambito il fatto che ci sono fondi privati cambia anche poi la logica stessa del settore perché sostanzialmente ci sono dei come posso dire delle metodologie operative che deburocratizzano questo ambito prima di fatto spazio era prevalentemente governi difese agenzie spaziali che magari avevano dei contractor con le grandi aziende aerospaziali però erano qualcosa di molto rigido molto burocratico la logica che oggi hanno le aziende invece è una logica lean o agile molto più veloce che usa anche metodi produttivi diversi usa il 3D printing usa il software usa il computational design e che si organizza anche i team in modo diverso sono team in media più giovani e che si comportano appunto sempre di più come i team delle start up scusa aggiungo un ultimo punto sulla domanda perché gli Stati Uniti l'altro motivo è che gli Stati Uniti sono un impero che il potere militare oggi sempre di più si fonda sul potere anche del dominio nello spazio in tutte le sue dimensioni consapevolezza informativa protezione dei propri asset e anche potere di offesa tant'è che gli Stati Uniti hanno creato una vera forza armata che è la Space Force quindi oggi con una linea di comando indipendente un personale indipendente quindi oggi accanto a marina aeronautica esercito AILA Space Force e che ha proprio questo compito di proteggere i propri asset e proiettare la potenza anche nel dominio dello spazio e attualmente cosa fa concretamente la Space Force? Loro hanno sistemi di monitoraggio quindi cercano di mappare quelli che sono gli oggetti presenti nello spazio hanno l'obiettivo di gestire anche la propria capacità cioè le capacità di osservazione di protezione dei Stati Uniti per quanto riguarda quello che usano questo ambito quindi per esempio nell'ambito del militare di intelligence le immagini satellitari sono molto importanti così come se tu devi proteggerti da attacchi di missili balistici e attacchi nucleari inoltre sempre di più c'è la tematica cyber quindi tu quando i tuoi avversari sempre di più proveranno in futuro a distruggere o rendere inoperabili o fare diciamo rumore elettronico contro misure nei confronti dei tuoi satelliti per ridurre la tua capacità di comunicazione comando e controllo quindi c'è una tematica proprio di cyber security anche molto importante e in futuro vedremo sempre di più anche satelliti da battaglia con armi cinetiche o diciamo armi di natura elettronica che con l'obiettivo appunto di mettere in disuso i satelliti avversari e poi ci sono anche un po' di cose fantascientifiche che oggi non sono ancora vere però su cui si fa ricerca c'è l'usare anche armi spazio terra però ripeto questo è ancora fantascienza una cosa che invece non è fantascienza è la cosa opposta cioè armi terra spazio tant'è che oggi le principali potenze quindi Cina Stati Uniti Russia e India stanno facendo test per distruggere satelliti con dei razzi che partono dalla terra questa cosa tra l'altro è molto particolare molto interessante perché è stata anche frutto di una recente dichiarazione pochi giorni fa degli americani che hanno detto che non avrebbero fatto più questi test perché perché creano un contributo enorme alla spazzatura spaziale perché tu quando distruggi un oggetto in orbita in quel modo crea un pulviscolo di migliaia di pezzi di componenti che poi diventano come dei proiettili che possono danneggiare sia gli strumenti civili che quelli militari infatti per quanto diciamo l'orbita immagino sia sterminata c'è proprio un problema di affollamento già no? Allora diciamo c'è un problema diciamo c'è un problema non tanto di affollamento quanto di pericolo crescente di una crescita esponenziale di questi detriti che possono che sono molto difficilmente controllabili in cui non c'è una singola soluzione che fa la pallottola d'argento che ti consente di controllarli e in cui servirà verosimilmente una combinazione di soluzioni quindi serviranno soluzioni preventive cioè fare in modo che sempre di più l'infrastruttura spaziale quando giunge a fine vita debba tornare andare in orbita cimitero o tornare a terra in modo controllato c'è una tematica di policy e regolamentazione di coordinamento internazionale c'è una tematica anche di raccolta potenziale di quelli che sono i detriti che sono già collocati in zone pericolose c'è una tematica di osservazione e monitoraggio bisogna usare tutti questi strumenti simultaneamente per diciamo comprimere questo problema e fare in modo che non diventi sempre più rilevante nel futuro c'è un sistema diciamo di orbite predefinite come ci sono le rotte commerciali per gli aerei più o meno e si segue quello o ognuno va per la no no c'è un coordinamento c'è un coordinamento in questo ambito che è fondamentale e come ripeto si tratta di un settore fortemente regolato in cui però diciamo c'è anche una componente che sfugge la componente che sfugge è quella relativa ai satelliti spia che comunque sono tanti e chiaramente hanno un livello di comunicazione e trasparenza di cosa sono molto minore rispetto a quello che fanno gli altri ma forse l'hai già detto all'inizio ma quanti sono adesso i satelliti in orbita allora ce ne sono diverse migliaia in questo momento sono ci sono diverse estime che puoi trovare però diciamo circa 5.000 quelli operativi circa 7.000 quelli ancora in orbita inclusi anche quelli non operativi ok beh quindi quasi la metà dei satelliti in orbita attualmente non sono funzionanti no a metà no diciamo questo non è così anche perché la derivata è molto grande come dicevo sono stati lanciati più di 1.000 satelliti soltanto l'anno scorso e quindi la proporzione di quelli operativi potrebbe aumentare in futuro perché comunque c'è un inbound molto forte ho capito senti un po' e invece la Cina in tutto questo? la Cina è interessante perché come su altri verticali tecnologici rilevanti come la computazione quantistica l'intelligenza artificiale sta sta spingendo in modo molto marcato per raggiungere o superare i paesi occidentali la Cina ricordo ha in questo momento una sua stazione spaziale già operativa quindi oltre la stazione spaziale internazionale c'è una seconda stazione spaziale cinese di cui non si parla molto sulle nostre televisioni ma c'è funziona e ha un programma di esplorazione sia lunare sia diciamo di costruzione di capacità molto ambizioso ripeto di cui non si parla moltissimo da noi ma che è presente e soprattutto è crescente ora dobbiamo capire a livello contingente che impatto ci sarà per via degli ultimi problemi degli ultimi mesi relativi alla contrazione economica dovuta al nuovo picco di covid che stanno avendo ma il trend profondo c'è cioè il trend profondo difficilmente può essere invertito e penso che sarà cresciato in futuro da come da quello che mi dici mi sembra che poi due macro fattori per la ripresa di questa cosa allo spazio sia uno internet e le applicazioni possibili diciamo di internet anche viste dallo spazio attraverso lo spazio e l'altra appunto la crescente importanza della Cina e i loro investimenti nella tecnologia a 360 gradi compresa quella spaziale quindi un problema geopolitico nel senso che magari nel periodo di latenza quando dalla caduta del muro e poi dell'impero sovietico diciamo della Russia comunista c'è stato un periodo in cui magari questo genere di cose sono state viste come meno necessarie perché non c'era un altro polo pericoloso nell'immediato adesso il fatto che ci sia e che sia probabilmente anche più strategicamente orientato alla tecnologia di quanto già non fosse invece la Russia ha rimesso un po' al centro la questione e poi effettivamente ci sono tantissime applicazioni della rete che si sposano bene con con lo spazio sì assolutamente anche qui ripeto il trend profondo è quella di dibridazione tra tecnologie tu oggi hai in tanti settori una ricombinazione un riescolamento tra tecnologie quindi quando parli di appunto di sicurezza informatica spesso c'è l'interconnessione con lo spazio c'è chi fa cose legate alla blockchain nello spazio per quanto abbiano senso o meno oggi le scienze della vita hanno una ricaduta importante da parte di questo settore e quando parliamo di agricoltura di monitoraggio delle colture di irrigazione di misurazione delle temperature di monitoraggio degli oceani di lotta climate change stai usando i dati spaziali in modo sempre più rilevante ma è la Cina appunto nello specifico ha questa ha questa stazione spaziale propria e poi cos'altro sta facendo ma allora c'è la costruzione di capacità fondamentali quindi che sono normalmente capacità di lancio quindi poter lanciare in modo indipendente i propri carichi perché ricordiamo che pochi paesi al mondo hanno questa capacità in secondo luogo avere proprie infrastrutture spaziale per quanto riguarda le funzioni chiave quindi telecomunicazione sistemi di posizionamento quindi essere indipendenti dal GPS e osservazione della Terra e poi c'è la tematica chiaramente militare già menzionata in secondo luogo c'è la tematica anche diciamo di scienza di esplorazione quindi poter dire di essere quelli che hanno lanciato il telescopio spaziale più potente cosa che cercheranno di fare poter dire di essere arrivati per primi in una certa meta o aver raggiunto per primi una certa una certa destinazione e poi poter dire che aver raggiunto un record è una proxy di potenza nazionale quindi tu se raggiungi come hanno fatto gli Stati Uniti in passato per primo la luna o come i sovietici per primo ma di uomo nello spazio cerchi di comunicare il fatto che sei più forte che hai maggiore potenza economica industriale o maggiore ambizione sono sicuro che andranno in questa direzione sicuramente c'è nel caso dell'America anche una diciamo così una centralità filosofica culturale del concetto di frontiera sia dalla loro nascita come paese sia poi in diverse applicazioni successive però diciamo questo è un concetto base della loro identità culturale c'è qualcosa di simile per i cinesi che potrebbe essere speso anche in un'ottica dello spazio allora non in modo esattamente analogo nel senso che chiaramente il mito della frontiera è un mito fortemente americano come tipo di radice culturale che è stato adottato tra l'altro abbastanza presto per quando è emersa un po' la corsa allo spazio quindi diversi autori o pensatori lo hanno citato come mito fondativo della corsa allo spazio e come riferimento culturale per quanto riguarda la Cina secondo me le coordinate culturali saranno diverse nell'ambito delle quali verrà inquadrata questo investimento questa ricerca un'ipotesi può essere quella appunto di portare questa ombrello di armonia anche in altre sfere così come oggi ci stanno cercando di farlo nell'ambito della geopolitica quindi la Cina come linea diciamo di sviluppo ideologico ha il fatto di portare la sua tecnologia politica di crescita anche in altre aree del mondo nei paesi del sud in Africa e così via con la bel terrode initiative potenzialmente anche in paesi sviluppati forse nello spazio accadrà qualcosa di simile questa è una pura congettura però è il modo in cui penso sia possibile inquadrare questo tema la seconda cosa interessante riguardante la Cina è che nella cultura pop e della fantascienza però sta iniziando a penetrare questo tema autori come Liu Cixin vendono molto un film tratto dai suoi romanzi è stato uno dei film che hanno diciamo avuto maggiori incassi in Cina in passato e la propria qualche titolo mi avevi consigliato qualcosa a tempo fa ma sai che uno l'ho anche preso ma non l'ho mai letto allora il più famoso è il problema dei tre corpi che ha avuto anche diciamo che è l'inizio il primo volume di una saga tra l'altro il libro secondo me è molto molto bello si vede che è scritto da qualcuno che ha coordinate mentali diversi dagli autori occidentali ma è comunque molto interessante tra l'altro senza fare spoiler però sono libri che trattano in modo anche molto forte la tematica della conflittualità e del tra civiltà e tra diciamo mondi diversi e però la fantascienza cinese comunque è uno spazio che inizia a essere prolifico e sta creando immaginario e forse come è successo anche in occidente questo immaginario potrà portare anche qualche spunto che verrà sfruttato in futuro faccio un corto circuito anche con quanto dicevamo prima prima parlavamo della Space Force la cosa curiosa della Space Force che i militari della Space Force non si chiamano soldati come nell'esercito avieri come nell'aeronautica o marinai come nella marina ma si chiamano guardians quindi è un chiaro riferimento ai fumetti ai film diciamo alla cultura pop c'è anche una serie più di una in realtà ce n'era una comica mi sembra di Netflix che ho visto l'anno scorso che non era manco male però credo che non abbiano fatto la seconda stagione però allora no hanno fatto la seconda stagione uscita pochi giorni fa credo che però non rinnoveranno per la terza questa è la voce che ho sentito c'erano delle cose abbastanza divertenti può anche essere che ci fosse diciamo un interesse maggiore nella questa serie tv col fatto che c'era per un momento è stato è Trump a spingere molto la la Space Force quindi anche forse anche per quello la serie era originariamente questa serie nello specifico di Netflix era ironica no è un po' come dire si mo la Space Force fate pure e lì com'è stata la transizione fra amministrazioni è rimasta importante immagino il progetto anche per i democratici si è rimasto importante e ripeto continua a a tirare fondi a emettere anche grant molte imprese americane iniziano ad essere contractor della Space Force chiaramente come tutte le modifiche radicali negli organismi pubblici ha creato anche rimostranza cioè alcune forze alcuni componenti delle forze armate americane sostenevano che non c'era la necessità di una nuova forza armata indipendente bastavano i comandi spaziali a loro interni così come accade in tanti altri paesi anche europei per esempio c'è molti anche l'Italia la Francia hanno delle istituzioni dentro le forze armate tradizionali che si occupano di tematiche spaziali così come questa cosa può aprire le porte a una proliferazione di forze armate diciamo per ogni teatro operativo quindi c'è chi dice dovremmo fare la forza armata per l'ambito cyber forse è il caso forse no questo lo scopriremo in futuro senti riguardo appunto l'opinione pubblica le narrazioni le serie tv eccetera fanno parte appunto della della sfera di quello che che pensano poi appunto le opinioni pubbliche le persone dei paesi eccetera c'è stata una sensibilità a un certo punto anche abbastanza spiccata credo che sia stato uno dei motivi di questo inverno spaziale per usare una terminologia presa da altre da altri campi dovuta anche al fatto che ci sono state delle morti ci sono stati incidenti con delle perdite umane negli anni ottanta però voi nel libro adesso è arrivato il momento di citarlo che è questo cancelli del cielo che poi trovate nella descrizione sotto dell'episodio come tutti i libri di tutti gli ospiti di PDR di tutti i libri che vengono anche citati che magari non c'entrano con l'ospite in questione però io cerco sempre di metterli nel link c'è anzi questa directory che trovate qua sotto qui stavo dicendo voi dite a un certo punto una cosa che lo sviluppo che ho trovato molto interessante questa corsa allo spazio avrà inevitabilmente anche una dimensione tragica nel senso che bisogna mettere in conto che quando si fanno delle cose così sul limite di quello che siamo in grado di fare in ambienti che conosciamo in maniera importante ma comunque limitata rispetto ad altri il rischio di perdite umane esiste esatto diciamo noi nel nostro libro abbiamo voluto chiaramente creare una visione ottimistica ma mantenendo chiaramente un livello di realismo importante ci abbiamo voluto dare una prospettiva del settore ma non dobbiamo secondo me illuderci che alcuni problemi non ci siano come appunto dicevamo prima la direzione militare o come il fatto che gli incidenti saranno inevitabili cioè c'è una percentuale di incidenti sarà inevitabile se si fa un investimento in questo ambito così come è successo nell'ambito dell'aviazione per cui nei decenni nei primi decenni in acce dell'aviazione il tasso di morte era molto alto poi con migliorare delle tecnologie con la costruzione di standard di sicurezza e con la diffusione di questi sistemi oggi il volo aereo è una delle forme di trasporto più sicure che possano esistere stessa cosa per lo spazio noi abbiamo visto queste grandi tragedie in passato con il Challenger Shuttle nell'86 e con il Columbia nel 2003 che hanno portato poi chiaramente dei periodi di confusione e riduzione di entusiasmo e anche di investimenti in questo ambito se faremo molti lanci umani nel futuro è probabile cioè è realistico pensare che non ci saranno incidenti e quindi bisogna capire qual è il livello di rischio accettabile e capire che se si hanno obiettivi ambiziosi purtroppo questo elemento esisterà anche in futuro uno dei pochi motivi per cui negli ultimi anni si parlava di spazio prima appunto di questa rinascita questa corsa attuale era il turismo il turismo spaziale oggi che ruolo ricopre in tutto questo allora oggi è una grande promessa che ha fatto un suo primo passo nel senso che i turisti spaziali esistevano già una ventina di anni fa nel senso che era stato consentito ad alcune persone un numero molto limitato di astroturisti di raggiungere la stazione spaziale internazionale pagando milioni di dollari poi cosa è successo che i nostri baroni dello spazio quindi persone che hanno fatto fortuna in altri settori e poi hanno reinvestito parte dei propri risparmi in questo ambito cioè Elon Musk Jeff Bezos e Richard Branson hanno costruito le loro imprese spaziali e hanno per per contribuire a questo potenziale uno settore del turismo spaziale appunto legato a questa espansione commerciale l'anno scorso c'è stato ci sono stati una serie di 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 lanci appunto di cittadini privati tramite i vettori di queste aziende che erano appunto portati nello spazio quindi le dragon di spacex la blue origin di bezos e la virgin galactic di di richard branson questi questi oggetti hanno un marketing molto simile ma sono molto diversi nel senso che quello che fa branson è un po' la bicicletta cioè ti fa fare un volo di pochi minuti che secondo alcuni non ti rende neanche veramente astronauta perché non ti porta necessariamente oltre la aliena di karaman e il mentre quelli di bezos e di musk sono diversi e in particolare quello che ha costruito lo musk è finora al momento attuale il sistema che ha le capacità e il reach più grande degli altri almeno a livello dimostrato empiricamente infatti quando musk ha fatto quel lancio dove è partecipato scusami bezos è partecipato per la persona c'è stata una diatriba fra fra lui e musk su twitter e sui social sul fatto musk diciamo ma quello non è veramente spazio cioè dove era andato ma allora diciamo hanno chiaramente cioè musk ha portato i suoi vettori in un in un distanza enormemente più grande per un periodo di tempo molto più grande cioè per diversi giorni non per pochi minuti quindi è proprio un altro tipo o per poche ore quindi è un altro tipo di di logica quella che si è andata ad applicare però adesso non rientriamo nel nel cioè c'è questa rivalità anche un po' memetica virale tra stramiliardari in cui magari è meglio non non farsi coinvolgere però oggettivamente quello che ha fatto musk è è una spanna sopra bezos bisogna dire anche che solo di recente ha ricominciato a dedicare molto tempo al suo al suo ramo blue origin cioè lui fino a poco fa bezos era totalmente focalizzato su cioè era fortemente focalizzato su amazon e seguiva l'azienda il ramo spazio degli suoi interessi con la mano sinistra mentre musk ha sempre dedicato a spacex un'attenzione enorme e probabilmente in questa fase forse anche maggiore rispetto a quello che sta facendo con tesla quindi questo è un tema è un tema interessante ma dici che per quello che non è mai non è ancora arrivato il cyber track no non credo tra parentesi tesla a parte il 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 declino che hanno avuto i titoli di recente comunque è un'azienda veramente straordinaria cioè che hanno sono stati capaci sono stati in grado di spostare la logica di un intero settore industriale quindi tanto di cappello poi con tutti i difetti e i problemi che hanno senti musk è un personaggio sicuramente vabbè di conobietà interessante ma perché dal mio punto di vista è evidente che ha delle capacità di realizzare cose notevolissime cioè notevolissima probabilmente forse la migliore del mondo questo è oggettivo e sotto gli occhi di tutti al tempo stesso questo successo questa capacità di implementazione poi di cose va molto affiancato anche da una grande capacità di comunicazione di promessa di retorica di discorso pubblico eccetera quindi effettivamente chi ne vede solo una parte dice ma è un imbonitore si dimentica che poi c'è una parte invece pratica notevolissima e proprio in questa coesistenza di queste due anime forse c'è la sua contemporaneità è proprio una persona che nel bene e nel male fa convivere due istanze fondamentali della nostra epoca il fatto che fare le cose da solo non basta se non se ne accorge nessuno e al tempo stesso comunicare basta per quanto è prescindibile ancora non serve se poi non sei in grado di stare dietro a quello che dici diciamo ha anche incorporato Musk una delle logiche fondamentali del mondo dei social media che per essere rilevanti non bisogna essere seri e e anche più che seri non bisogna essere politically correct forse no esatto con seri intendevo diciamo omologati e il che tra l'altro è qualcosa che si è visto funzionare molto bene cioè quello che fanno Musk o alcuni soggetti dell'altrite oggi è quello che volevano far fare gli situazionisti alla sinistra 40 anni o 50 anni fa quindi questo cioè la violazione delle norme lo scandalizzare erano qualcosa che prima era legato solo una parte politica mentre oggi è sfruttato a tutti i livelli e Musk lo ha capito benissimo e questa cosa funziona negli algoritmi dei social e fungere usare qualche tipo di affermazione controversa o senza diciamo modestia funziona molto bene però secondo me c'è anche una questione di opportunità nel senso che tutto questo in un sistema occidentale in cui non ci fosse oggettivamente proprio a livello oggettivo una grossa crisi di libertà d'espressione non sarebbe così forte nel senso parallelamente nello stesso emisfero anche successo di un podcast come quello di Rogan che dalla sua cameretta fa più spettatori della CNN non sarebbe possibile al di là delle capacità dell'uomo che sono evidentissime sono notevoli ma risponde a una domanda che non è più soddisfatta dai media generalisti americani occidentali in generale cioè nel senso è vero quello che dici tu è una tecnica ma al tempo stesso risponde anche a una domanda del tutto in evasa questo è corretto diciamo Musk sicuramente ha questa capacità di intuire delle correnti profonde che con un investimento poi pluriennale perché poi anche nel caso suo di Twitter è da anni che sta costruendo questa immagine in cui in parte se stesso realmente in parte questa cosa si incrocia con i suoi interessi che poi è stata molto efficace c'è una tematica anche diciamo di efficacia economica nel senso che essere costantemente trending essere dentro le conversazioni aiuta in parte anche i suoi titoli nel senso che comunque Tesla è quotata per il modo in cui oggi funzionano i mercati finanziari essere virali è molto importante perché oggi con le piattaforme come i Toro Robinhood e così via chiunque può fare trading con piccole cifre e questa cosa crea delle distorsioni molto forti ci sono azioni che vengono comprate per simpatia che vengono comprate per attaccamento emotivo perché ti sta simpatico il personaggio e in un mass diciamo fa leva su questo in modo molto pesante parentesi ovviamente la follia degli investitori esiste da centinaia di anni non è un fenomeno nuovo ma quello che hanno portato le piattaforme di trading online ce ne sono tantissime e questa gamificazione del trading che si è intersecata con i meccanismi di comunicazione dei social media questo è un fenomeno molto interessante chi lo ha capito lo sta sfruttando e in che modo si può sfruttare secondo te? diciamo così come io posso fare un po' scrivere un post abbassandone la complessità aumentandone il livello di carica emotiva e agganciandolo al tema attuale per farlo diventare trending con maggiore probabilità posso fare questa cosa anche per un profilo personale che io associo a un'azienda perché le persone quando pensano a Tesla non pensano alle migliaia di dipendenti pensano a Elon Musk e il fatto che lui diventi rilevante ha poi un effetto anche sui mercati questo è chiaro ma infatti ad esempio sulla questione del takeover su Twitter a parte che io sono rimasto molto stupito dalla reazione univo cioè stupito si fa per dire però diciamo sì ancora un po' stupito nonostante tutto la reazione univo che ha dei media generalisti come se fosse un fatto necessariamente negativo quando siamo di fronte da anni a una contrazione importante alla libertà di espressione nell'occidente credo che qualcuno che compra una piattaforma che già esercita una quantità di censura veramente veramente importante non solo e che comunque sarebbe argomento di conversazione su Trump perché quando l'hanno cancellato era comunque presidente degli Stati Uniti ancora e non è rilevante sono piattaforme che lavorano comunque su un'autorizzazione statale a essere delle piattaforme che li da anche li solleva dalle responsabilità legali di quello che viene scritto là sopra ad esempio che non è scontato perché per i giornali non è così godono di una serie di privilegi e poi dopo godono anche la possibilità di censurare chi vogliono loro e al tempo stesso per l'effetto rete diventano quasi monopoliste se non monopoliste nel loro ambito quindi è veramente tutta una serie di condizioni molto privilegiate e anche molto pericolose perché se tutto il dibattito si sposta là sopra il fatto che decidano di censurare questo o quello tutti hanno presente Trump in pochi hanno presente invece quella operazione non so se la conosci che era stata fatta sembra da da Brett Weinstein su e altre e altre persone di un ticket per le elezioni presidenziali americane le ultime che di un repubblicano e un democratico che si chiamava Unity 2020 mi sembra e l'idea era di fare questo ticket democratico repubblicano che avrebbero dovuto governare poi due anni uno due anni l'altro con l'altro vice diciamo proprio per un discorso contro la polarizzazione ovviamente non aveva nessuna chance di vincere ma non è tanto questo il punto il punto è che Twitter gli ha chiuso l'account quindi nella nella narrazione sembra che Twitter chiuda solo robe di suprematisti bianchi o cose del genere non è stato per nulla così c'è stato ha fatto tutta una serie di censure molto più pesanti molto più delicate eccetera quindi qualcuno compri una piattaforma comunque rilevante anche se poi principalmente usata forse anche solo dai personaggi che lavorano con i media eccetera ma non solo però insomma in larga parte e faccia diciamo impegno di garantire la libertà dell'espressione da sopra è un'ottima notizia ed è stata riportata univocamente come una cosa negativa anche senza sapere bene di cosa si sta parlando questo e concludo mi fa ritornare al discorso che facevamo prima è che io non sono un fan di Musk in realtà però questa cosa è oggettiva secondo me però questo ci fa tornare al discorso iniziale che quello che stavo dicendo prima cioè c'è proprio un vuoto c'è un problema cioè nel senso e poi certe comunicazioni funzionano perché questo problema esiste e nessuno ne parla perché la bolla diciamo mediatica in occidente oggi è molto distante per alcuni temi dalla realtà dei fatti o anche semplicemente dall'opinione di enormi quantità di persone probabilmente anche la maggioranza credo spunto da questo per spostarmi anche su un piano logico diverso cioè il fatto che la nostra vita oggi sempre di più dipende dalle tecnologie digitali quindi tu per sempre di più per trovare lavoro per curarti per informarti per capire le cose per conoscere le persone a volte anche per trovare l'amore ti dipendi sempre di più dalle tecnologie digitali quindi c'è una pressione enorme da parte sia degli stati che delle aziende di avere controllare queste informazioni e gestirne i flussi qual è la conseguenza secondo me è che oggi c'è è molto importante avere presente il potenziale democratico che c'è sulle tecnologie criptografiche cioè la possibilità di poter governare in modo indipendente le proprie informazioni di poterle scambiare in modo privato e tutto ciò che è legato alle informazioni quindi come esempio gli asset digitali è qualcosa di molto interessante come tema e da approfondire un po' una delle frontiere secondo me delle lotte democratiche per il futuro questo è assolutamente vero però riportando la paradigma cioè di questo che dici tu sono convinto anch'io però riportando la paradigma di cui stavo parlando io invece tutto questo viene vissuto come anarcho capitalismo del dieco eccetera tra l'altro impedendo tantissime persone esterne agli ambienti dove queste cose si sanno si studiano si conoscono e quindi si capisce il potenziale non solo economico finanziario ma anche appunto veramente democratico però questi discorsi non arrivano al di fuori di almeno in Italia di gruppi comunque ristretti di persone e questo è un deficit di democrazia in un certo senso io non credo che ci sia stato noi viviamo in un periodo storico dove c'è uno scollamento veramente importante fra chi fa opinione e i media e poi tutto quello che sta succedendo in realtà nel mondo e questo è un punto di debolezza per recentemente in questo momento siamo ancora più liberi degli altri sistemi ma oggettivamente non siamo in grande forma secondo me sì concordo con te aggiungo anche un'altra cosa che mi ha colpito molto e di recente non so se può essere correlata a quello di cui stiamo parlando è che se dovessi definire uno dei tratti fondamentali della nostra epoca è che è un'epoca di grande di ipercomplessità e di grandi shock quindi basta guardare gli ultimi tre anni tra la situazione geopolitica e la pandemia per capirne la portata la cosa che mi ha colpito è che tanti intellettuali di cui per esempio personalmente avevo grande stima hanno completamente non compreso questo tipo di situazioni cioè c'è stata una capacità di incapacità di interpretare la complessità e i shock del nostro tempo che secondo me è stata molto forte da parte di chi per professione doveva andare un po' oltre anche il giornalismo cioè andare riflettere sulla profondità secondo me le due cose sono separate ma possono avere qualche connessione tra di loro quindi la butto come spunto perché mi ha colpito molto come cosa sicuramente sono separate ma poi tutto un po' interconnesso in realtà ad esempio c'è un mandato oggi un grosso disincentivo a dire qualsiasi cosa abbia un suo grado di complessità nella sfera pubblica soprattutto usando i social ma non solo perché poi anche i giornali ormai sono talmente la canna del gas che pur di fare qualche click in più che poi le persone non sanno ma l'economia del click su un page di un giornale è talmente bassa talmente ridicola che veramente quasi qualsiasi attività economica rende di più e ciò nonostante questa cosa viene fatta quotidianamente e ci sta veramente facendo del male come società e con questo cosa voglio dire voglio dire che alle volte vedi dei discorsi di un grado di complessità tutto sommato nemmeno elevato cioè non stiamo parlando di discorsi di fisica teorica o quantistica o quant'altro che dove però c'è una frase quattro parole che si possono estrapolare per distruggere quella persona fondamentalmente ma prima ancora per fare un po' di click e questo è diventato un habitus della copertura mediatica contemporanea questa cosa qui è molto pericolosa è molto pericolosa perché inizialmente polarizza tutta l'opinione pubblica cioè o sei contro poi il problema posto in quei termini o sei contro o sei a favore tutto molto tutto molto emotivo e lascia e rende impossibile fare dei discorsi da un grado di complessità uno in su nell'ambito della sfera pubblica e questo è secondo me una minaccia esistenziale nostra per la società non so come la vedi tu sì concordo e la tendenza almeno dei mezzi di comunicazione è anche amplificare ultimamente queste dinamiche poi creano anche altre opportunità faccio un esempio più estremo che può essere TikTok è molto difficile portare complessità in quel tipo di piattaforma dall'altro lato però si possono portare cioè puoi inventare anche modi nuovi per arrivare alle persone per comunicare per far passare dei concetti tramite quali poi uno successivamente può approfondire dall'altro lato però come tutte le piattaforme anche i nuovi social hanno delle tematiche di controllo censura che sono interessanti e molto curiose faccio un esempio sempre riferendo a mia TikTok la stessa persona si apre l'app a pochi chilometri di distanza tra i confini dell'Ucraina e della Russia vede delle cose molto diverse dei video virali molto diversi e una lettura della realtà totalmente diversa perché chiaramente c'è una gestione delle informazioni di ciò che può essere accelerato nella sua diffusione totalmente diversa certo no sapevo anche che TikTok mentre in Cina propone diciamo molto di più l'algoritmo delle cose di miglioramento self improvement eccetera in occidente invece manda più intrattenimento diciamo chiamiamolo bieco però diciamo fine a se stesso no? questa è una forma di guerra fondamentalmente è un'operazione come l'avremmo chiamata una volta allora questa però diciamo di guerra culturale però potrebbe cambiare però questa cosa perché in parte deriva dalla strategia di penetrazione del mercato di queste piattaforme di TikTok in particolare loro so che utilizzano vanno tendenzialmente prima nelle città di terzo livello poi di secondo livello e poi di primo livello cioè partono da strati socio-economici più bassi tendenzialmente più periferici per far penetrare inizialmente l'app e poi risalgono la curva verso quelli più elevati o in città centrali per esempio in India hanno fatto in Accumilazione hanno fatto così mi sembra che quello che è caduto in occidente sia simile e che è un po' l'inverso colpisce perché è un po' l'inverso di quello che si fa in altre categorie di prodotti in cui i primi adopters sono tendenzialmente persone ad alto status socio-economico e poi a calare vengono gli altri questa cosa funge e serve anche per la viralizzazione dei contenuti e per il tipo poi di contenuti che vengono diffusi in varie fasi temporali Beh strategicamente credo che sia intelligente nel senso che sicuramente i numeri più grossi stanno là e poi dopo tu obblighi diciamo invece l'altra obblighi si fa per dire però diciamo c'è un grosso incentivo per il resto della popolazione entrare là sopra nel momento in cui c'è già la maggioranza esatto c'è l'effetto network che poi è la base di tutte le tecnologie legate a internet e social media si basano su questo no infatti quello che dicevo prima rispetto a poi il discorso della censura dei social che non passa diciamo l'idea che siano equiparabili a delle testate per cui tu hai la testata di destra di sinistra di centro quella cattolica quella laica quella scientista tutto quello che vuoi perché non funziona così cioè per via dell'effetto network diciamo un social network che fornisce un determinato tipo di di servizio diventerà evolutivamente dominante in un breve periodo all'interno di quel servizio quindi questo è molto più difficile per un giornale nell'epoca precedente raggiungere quel grado di dominanza in un ecosistema e tra l'altro questo è un tema molto interessante perdono se vado a toccare di nuovo TikTok perché per esempio questa cosa è molto difficile su questo tipo di piattaforme perché si basano sulla capacità molto rapida di creare celebrità istantanee cioè se tu fai un video che tu hai pochi follower sei stato un personaggio minore su quella piattaforma ma se fai un video che ha un coefficiente di viralità elevato può essere accelerato molto rapidamente può essere distribuito molto rapidamente a persone che non ti seguono tramite l'algoritmo che gestisce lo scrolling questo accade in modo molto più profondo di altre piattaforme quindi c'è un incentivo estremamente potente per creare contenuti perché tu puoi essere la persona più sfigata dell'universo e diventare una celebrità in tempi relativamente rapidi la cosa però interessante è che poi la cosa non è stabile cioè non necessariamente se tu hai fatto quel tipo di di colpo puoi ripeterlo in futuro in modo sistematico ed è è interessante però perché rispetto anche a altre piattaforme che erano nuove in passato e oggi sono diciamo sono già al picco come Instagram tu non è che devi in modo laborioso costruire i tuoi follower mettere le foto perfette eccetera eccetera cioè c'è un incentivo quindi anche per persone che hanno un modo anche artigianale o improvvisato nel generare contenuti in modo costante questo è molto intelligente molto curioso però anche dagli effetti inquietanti poi sul modo in cui ci incolliamo a questo tipo di sistema beh c'è un discorso di soglia sostanzialmente la soglia di ingresso alla celebrità o comunque alla capacità di raggiungere grandi pubblici è molto più bassa però c'è un problema dei dati poi perché TikTok è cinese quindi è ovvio che tutte le piattaforme fanno non dico quello che vogliono esistono delle policy di massima che nessuno va a vedere però esistono avrei meno fiducia che vengano osservate diciamo dai cinesi rispetto agli americani vedremo tutto può accadere anche perché con la situazione attuale la deglobalizzazione che era un fenomeno già presente prima della crisi geopolitica in Ucraina oggi è un fenomeno assolutamente più rapido e sta già accadendo in tanti settori internet è già in parte deglobalizzata cioè di fatto esistono per alcuni sistemi compartimenti stagni non più comunicati in modo efficace e quindi forse anche la capacità di questa azienda di continuare a proliferare verrà radicalmente rivista in futuro questo è un po' una congettura però la linea di tendenza è quella di una chiusura maggiore e costante chiusura maggiore e costante cioè mercati su cui delle tecnologie funzionano in un modo rispetto ad altri dove funzionano diversamente sì esatto che tu oggi così come hai cioè gli ultimi vent'anni si sono basati sull'accoppiamento dei mercati tra l'occidente e l'asia per tutta una serie di motivi per le malattie prime per la produzione a basso costo ma queste cose poi si sono ridotte progressivamente perché per esempio in Cina c'è un obiettivo politico di incrementare la domanda interna e di creare un'economia interna più forte che chiaramente porta a sganciarti dagli Stati Uniti gli Stati Uniti volevano riportare a terra da loro alcune produzioni sempre per rendersi più indipendenti la conflittualità politica partita con Trump ma che i democratici accettano al 100% con la Cina sta portando una spaccatura sempre più forte e con il conflitto in Ucraina diventa veramente purtroppo uno scenario realistico il fatto che cioè il mondo si spaccherà tra di nuovo nelle sue linee di catena del valore nelle sue linee di informazione e rischiamo di avere due mondi separati o quasi entro breve non è lo scenario che necessariamente è più probabile per uno scenario molto concreto ed è uno di quelli possibili secondo me io non sono un esperto di questo campo però mi sembra abbastanza probabile che uno degli esiti principali del conflitto in Ucraina sarà la cinesizzazione della Russia diciamo soprattutto considerato come è stato gestito anche il conflitto nel senso che questi poi dovranno mantenere in piedi la loro economia in qualche modo tutto può accadere ancora perché la mia percezione è che c'è una volatilità di circostanze tuttora molto elevata nei trend attuali uno scenario probabile che viste le sanzioni la Russia dovrà avere degli sbocchi comunque per le sue materie prime e la sua economia e per la Cina è un'opportunità poter comprare materie prime a basso costo e quindi le due cose si sposano molto facilmente chiaramente questo se Putin non farà delle cose troppo azzardate il che implicherà chiaramente anche una chiusura anche su quel versante la Cina in questo momento su questo conflitto secondo me è tra i fattori fondamentali tra gli aghi della bilancia hanno mantenuto in questo momento fino ad ora una neutralità filorussa nel senso che hanno un atteggiamento formalmente neutrale ma de facto su alcune cose vicino alla Russia ma non conbelligerante in modo esplicito qualsiasi passo da un lato dall'altro della Cina potrebbe cambiare radicalmente la situazione però ripeto tutto può accadere ancora mi sembra che abbiano trovato una posizione che li permette di ottenere molto attraverso una certa apparente immobilità internazionale nel senso sono un paese molto attivo internamente sono attivi diciamo sulle loro aree di influenza in Africa eccetera però evitano il conflitto diretto con l'Occidente ciononostante continuano ad aumentare la loro influenza a livello globale esatto la cosa interessante è vedere se questa influenza che è stata negli ultimi anni di natura economica si trasformerà anche in termini di soft power perché negli ultimi anni è stato un po' decrescente come soft power però potrebbe incrementare rapidamente in futuro cioè il fatto che anche i prodotti culturali cinesi o la visione del mondo prodotta in quell'ambito magari potrebbero diventare più più rilevanti e più appetibili e affascinanti magari per alcuni contesti rispetto al passato questo è una delle tematiche storiche e culturali che vedremo più importati in futuro perché comunque la leadership e l'egemonia americana si è basata anche sul mito americano quindi vediamo se ci sarà anche un mito cinese altrettanto forte in grado di conquistare le menti e i cuori non è detto però credo che si investirà per farlo fino ad adesso è stato soprattutto un retaggio ex comunista se penso anche a cosa è successo con il nostro presente governo che si è spinto nelle mani di andare a Cina in maniera abbastanza tragicomica poi per fortuna è cambiato ma al di là delle contingenze c'è una questione filosofica nel senso che l'America chiaramente ha una cultura molto ben definita articolata però alla base c'è il concetto dell'individuo cioè è il posto al mondo la cultura anglosassone nello specifico l'America che ha messo al centro della sua costruzione culturale e politica l'individuo e l'individuo è diciamo un meme che si può applicare da tutte le parti di qualsiasi cultura invece i cinesi hanno una fortissima centrale separazione fra chi è cinese e chi non è cinese e quindi è difficile che la vedo molto più difficile che possano diventare diciamo attraenti culturalmente per tutto il resto del mondo intendo i non cinesi e però ci sono degli elementi per cui per alcuni paesi del mondo lo sono il uno dei nuovi filoni è quello della crescita economica cioè il fatto di creare sistemi per lo sviluppo nazionale costante basato su forti investimenti in infrastrutture su un relativo agnosticismo relativo ai sistemi politici che è stato molto diverso rispetto ad approcci portati in passato dalla banca mondiale e dal fondamentale internazionale che insomma è un po' appetibile per molti paesi non dico che sia migliore però sicuramente per alcuni ha un suo fascino quindi bisogna capire se questa cosa si diffonderà ulteriormente però queste sono questioni sono questioni geopolitiche non di conquistare i cuori diciamo cioè tu stai dicendo se io sono un'autocrazia una dittatura di un paese del terzo mondo la Cina mi può fornire degli aiuti delle partnership delle alleanze economiche senza richiedere che io faccia delle riforme anche in campo politico questo stai dicendo ma non solo c'è anche il fatto di creare un ombrello di diciamo di politica armonica globale uso terminologia terminologia diversa da quella che utilizzerei normalmente appunto per insomma per rendere un po' quel punto di vista crei questo ombrello in cui tu sai che poi la tua politica interna il tuo modo di vivere non deve necessariamente cambiare o essere mutato in modo radicale basta che non che non metti in discussione chi comanda e che non metti in discussione i suoi piani di umbo termine questo per alcuni può essere efficace cioè può essere affascinante specialmente se produce risultati in tempi rapidi e lo vedi magari produrre risultati in tempi rapidi a chi è accanto a te non dico che è giusto non dico che ovviamente è una valutazione desiderabile sì sì è una prospettiva geopolitica chiaramente questa cosa da chi ha già invece libertà viene ovviamente rigettata fortemente abbiamo visto Hong Kong quello che è successo e invece per quanto riguarda l'Europa c'era un discorso che tu che voi citate anche nel libro con Alessandro che è scritto con Alessandro Resu che lo faccio rivedere è questo i cancelli del cielo sul discorso della sovranità tecnologica europea un discorso che stava a cuore alla Merkel e a Macron anche a noi un pochettino diciamoci la verità come funziona esattamente a che punto siamo spero di sì spero di sì nel senso che oggi ci sono alcuni filoni di sviluppo tecnologico che richiedono una visione di lungo termine e forti investimenti in Europa è irrealistico pensare di poterli portare avanti unicamente da un punto di vista nazionale o di singole nazioni quindi se tu vuoi investire sul futuro delle tecnologie quantistiche o delle capacità di computazione o dello spazio o di tanti altri filoni interessanti che si stanno ponendo in questo momento devi farlo con un'ottica che trascende gli interessi in breve termine e che abbia una massa critica di ricerca e sviluppo che non ha per ogni motivo un impatto immediato rilevante quindi questa cosa poi si traduce anche nelle dimensioni tipiche della potenza che sono appunto potenza economica potenza militare sviluppo sociale e culturale quindi questa è una cosa fondamentale e credo che sia importante tenerla a mente ecco qui si introduce diciamo almeno due problemi uno la capacità di pianificare a livello europeo come dicevi tu ma l'altra precedente la capacità di pianificare a lungo termine negli attuali sistemi democratici occidentali che sono molto molto orientati a vincere le prossime elezioni regionali o diciamo la scadenza di turno o appunto a fare il provvedimento che sia spendibile mediaticamente subito l'ultimo ospito del podcast prima di te era Claudio Giunte e ha raccontato appunto il comunicato che fece il loro ministro dell'istruzione quando introdusse di nuovo l'educazione civica nelle scuole un comunicato grottesco ma si capiva che la razza di tutta quella cosa lì era fondamentalmente fare un comunicato cioè non c'erano interesse e spesso è un piccolo esempio di come funziona l'agire politico nelle democrazie occidentali in alcune un po' meno in altre di più però diciamo anche questo è un problema centrale e come vedi tu la concorrenza invece dei sistemi non democratici cioè tu credi che al di là di questa capacità che è indiscussa che hanno di pianificare su lungo periodo questo la loro il loro minore molto minore grado di libertà poi li comporti anche degli svantaggi competitivi su cui possiamo sperare e contare o cosa? Allora bisogna dire che non tutti i sistemi non democratici sono cose efficaci nel senso che se parliamo per esempio della Russia è un paese che ha invece in termini di innovazione tecnologica ha vissuto sui frutti del passato e oggi riesce a produrre molto poco è un paese che di fatto si è strutturato su una oligarchia estrattiva e quindi diciamo non ha prodotto molto e non ha non ha avuto sicuramente una visione di lungo termine da quel punto di vista la Cina è un caso differente però perché perché in Cina c'è stata una costruzione di un acceso dirigente mediamente di qualità buona tramite anche selezioni competitive tramite un interesse nei confronti del dello studio e del merito come canale di ascenza sociale che da Dex Shopping in poi hanno portato a quella che sta l'onda di crescita attuale chiaramente sono sistemi che si ispirano al passato si ispirano anche al mandarinato e a quella che era un po' la logica culturale degli imperi dell'antichità ma da Dex Shopping in poi agli 80 anni poi è diventato un sistema modernizzato che ha portato alla crescita del paese non è detto che questa crescita però e quindi il fatto che fosse un paese con caratteristiche di accentramento ha facilitato di avere ha facilitato il fatto di avere una visione lungo termine tuttavia non è affatto detto che questo vantaggio permanga per il futuro specialmente perché poi esiste anche un limite all'accentramento del potere nel senso che se il potere viene accentrato eccessivamente si incrementa la probabilità di fare errori in modo molto forte si incrementa la probabilità di essere distaccati dalla realtà si incrementa il rischio di diciamo allocare in modo molto distorto e scorretto le risorse questo fino ad ora non era avvenuto perché comunque la Cina non è una dittatura è un sistema politico molto articolato e molto complesso con diversi corpi di controllo e comunque con una competizione interna tra gli organismi dirigenziali che ha portato comunque a decisioni razionali per quanto riguarda lo sviluppo di lungo termine è possibile che questo accada in futuro però non è necessario quindi diciamo questo è un tema secondo me importante un altro tema importante è che lo sviluppo tecnologico di alto livello si basa sulla circolazione dei cervelli e una delle cose che oggi è ancora un asset molto importante negli Stati Uniti sono le università è il fatto che se tu oggi vuoi sviluppare la tua carriera in alcune discipline in modo elevato quelli sono dei magneti molto importanti per alcune discipline o sei in 4 o 5 posti nel mondo o non puoi fare cose rilevanti tante persone vogliono andare a vivere negli Stati Uniti molte meno vorrebbero andare a vivere in altri sistemi politici e in Cina nello specifico quindi se non diventa se non c'è questo meccanismo di magnetizzazione del talento la capacità poi di sopravvivere sulla frontiera tecnologica che richiede creatività diversità comunicazione e libertà diventa molto più complesso infatti io prima citavo sbagliando sulla questione di Twitter Eric Weinstein in realtà quello l'aveva fatto il fratello Brett però Eric me l'ha fatto venire in mente adesso su questo che dicevi lui parlava proprio del vantaggio competitivo di mantenere una certa un grado elevato di libertà d'opinione d'espressione e di conseguenza anche di ricerca all'interno delle accademie come diciamo questione strategica per la sopravvivenza dell'Occidente che dal punto di vista geopolitico è la sua preminenza questa cosa è messa un po' a rischio dal vuochismo cioè il fatto che oggi le accademie soprattutto quelli anglosassori ma ormai non solo siano in questa morsa ideologica riduce ci rende per aspetti diversi più simili a questi a questi sistemi ingessati per una questione di ideologia autoindotta non viene imposta ancora dal governo dai governi dalle istituzioni ma è una questione diciamo culturale però profondamente ideologica che sta infettando un po' tutto il sistema accademico occidentale sì è un tema che sta come posso dire che in una fase crescente di distorsione nel senso che alcune battaglie sono sicuramente giuste per esempio mi ricordo quando ero negli Stati Uniti ho fatto un master ad Harvard sono stato lì due anni mi copiava molto la simmetria tra l'energia data per una causa giusta ma in modo sbagliato faccio un esempio concreto ci si focalizzava su questioni terminologiche o su usare una parola invece che un'altra in modo ossessivo e continuativo però poi la stessa energia non veniva non so data per far assumere più professori ordinari da parte di un certo tipo di background socio-economico etnico sociale e così via ci si focalizzava sulla superficie perché chiaramente è la cosa più facile e più immediata e non sulla profondità e sui veri meccanismi di potere perché poi chiaramente se tu hai non so più professori ordinari da parte di un certo background difficilmente ci sarà poi il tuo linguaggio sarà irrispettoso o negativo nei confronti di quel gruppo quindi questo mi ha colpito molto più che altro per i suoi picchi di irrazionalità che andavano persino contro poi la causa che si voleva promuovere scusami tu hai detto background socio-economico ma non è quasi mai quello il punto non è background socio-economico in senso ampio ma è background identitario nel senso proprio di appartenenza a questa o quella minoranza non è diciamo non è una questione come l'avrebbero posta come l'avrebbero posta la sinistra europea in passato quindi socio-economico sì è corretto diciamo il tema identitario è quello che è prevalente e ci si dimentica spesso invece il tema del background socio-economico che è delle delle divisioni brutali che esistono nei paesi occidentali in questo momento perché la mobilità sociale si è ridotta e per alcune fasce di popolazione la speranza di poter modificare le proprie condizioni da 20-30 anni è bloccata e in un paese con il PIL stagnante o persino un declino come nel caso dell'Italia il PIL pro capite di ultimo anno è stato anche declinante quindi ci sono pezzi di popolazione molto grandi che hanno visto fare dei passi indietro nella propria condizione di vita in modo sostanziale quindi questa cosa chiaramente porta dei contraccolpi negli Stati Uniti dicevo la cosa che mi aveva colpito appunto che c'è questo tipo di distorsione e anche lì però guarda ti assicuro che anche per la tematica del background socio-economico c'è la tendenza a focalizzarsi sulla superficie invece che sulla sostanza faccio un esempio concreto recente per esempio in alcuni college in alcuni in alcune università e in alcune scuole stanno in questo momento alleggerendo la diciamo la 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 selettività dei test standardizzati in alcuni casi li stanno anche eliminando o stanno alleggerendo i problemi di matematica diciamo i programmi di matematica questo perché perché si pensa che ci possa essere una creazione di discriminazioni sulla base di questo tipo di programmi e di test il problema qual è che non si ragiona in termini comparativi perché l'alternativa è molto peggiore cioè se io devo selezionare le persone sulla base delle loro esperienze extracurricolali si hanno fatto volontariato eccetera cioè il bias la distorsione creata dallo status socio-economico o dal gruppo etnico di provenienza è molto più grande rispetto a un test standardizzato quindi il problema è tra uno strumento in una molteplicità di strumenti imperfetti rischi di buttare via il bambino con l'acqua sport dipende anche cosa devi andare a fare perché nel senso se il test d'ingresso è per ingegneria o matematica o fisica eccetera ha senso che riguardi quel genere di materie no? no guarda stiamo parlando di test come l'SIT che sono di comprensione di base cioè riguardano capacità di ragionamento di base di manipolazione di numeri sono le capacità che servono un cittadino per leggere una pagina di un giornale una statistica non parliamo di non devi sapere gli integrali o le derivate ok e quindi quindi è peggio di quello che stavo pensando ok ok no e quindi insomma il tema è questo cioè è un'altra un'altra componente di rischio è questa cioè se le nostre accademie perdono o diminuiscono in maniera importante la loro capacità di perseguire ricerca libera diciamo di base non di base ma comunque di scegliere le proprie direzioni e soprattutto di poter esprimersi no perché poi anche quando la censura sostanzialmente diventa autoimposta è sempre censura cioè quando si perde il clima la capacità di avere un clima in cui le persone si sentono sicure ad esprimere delle idee che anche possono essere potenzialmente sbagliate questo questo è un problema sistemico grave di cui la maggior parte della gente non si rende conto e tu mi sa che mi avevi parlato del del paradosso dell'ortodosso che era teorizzato da qualcuno da qualche WC della Silicon Valley Graham può essere lo hai combinato non ricordo il paradosso però se mi ricordi no che per l'ortodosso e questo io lo vedo lo vedo quasi ogni giorno in azione è molto difficile pensare che esistano effettivamente le limitazioni di libertà attorno a lui perché lui non ne fa esperienza perché ha già volontariamente su base volontaria sua personale nessuno lo costringe ma pensa in maniera ortodossa e questo lo porta a pensare che esprimere un pensiero non ortodosso diverso dal suo sia ugualmente facile ok perché non fa esperienza diciamo di tutte le resistenze che vengono esperite diciamo nel caso in cui di cui si fa esperienza nel caso in cui invece non si segue questo genere di ortodossia e quindi il paradosso è che l'ortodosso non vede il costo della non ortodossia perché non è mai messo in condizione cioè ad esempio quando mi confronto con gente che non lavora nel mondo dei teoria o dei media o del cinema o della televisione diciamo la sensibilità grossa le persone che lavorano nei media sentono questa pressione molto 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 di più che una persona che lavora in altri campi che lavora in un ristorante eccetera e quindi è più facile che si renda conto del problema mentre molte persone pensano che ci sia molta più libertà di quella che in effetti c'è in questo momento storico in occidente chiaro poi la cosa che mi colpisce molto è quando alcuni problemi partono anche per puro caso senza nessuna ragione nel mio caso personale per esempio il libro era stato pubblicizzato pochi giorni fa con un post social da parte degli account della Lewis simultaneamente c'erano state quelle infelici dichiarazioni assurde di Orsini e visto che sul libro c'è scritto Lewis perché c'è l'University Press l'editore e c'era il sottotitolo geopolitica senza nessuna connessione con con quello che abbiamo scritto con le nostre convinzioni la gente scriveva centinaia di commenti dicendo dovete dissociarvi colpevoli complici poi utenti che si dicevano tra di loro ti vengo a prendere a botte sotto casa diciamo tutte le classiche dinamiche che si instaurano nei conflitti social in questi casi ma tra l'altro tutto questo a molti livelli che potremo analizzare però mi sembra che il primi genio l'originale sia l'idea che se qualcuno dice qualcosa su cui non si è d'accordo e si ritiene magari anche stupida allora non debba parlare che ormai è abbastanza accettata comunemente io prima parlavo del paroso dell'ortodosso questo diciamo lavora a dei livelli più profondi più dettagliati ma è fatto ad esempio di Orsini anch'io sono d'accordo con quello che dice Orsini ma voglio dire ma qualcuno potrà essere libero a dire una cosa su cui io non sono d'accordo tra l'altro quale sarebbe la vera io credo antidoto antidoto comunque soluzione quando si trova di fronte delle idee che si ritengono sbagliate confrontarsi con queste idee spiegare perché sono sbagliate cioè l'effetto contrario cancellarle le rende solo più forti ma se tu guarda ho fatto l'esperimento l'altro giorno per curiosità sono andato a vedere i video di Orsini su YouTube non ho visti due o tre tutti tutti i commenti sotto sono positivi ma positivi in maniera cioè incredibile nel senso tu direi c'è anche un bias del campione perché se uno va a vedersi i video però ciò non toglie che anche dal tono che vedi c'è una componente martirizzante che sicuramente quando viene percepita come tale aiuta l'adesione emotiva e siccome ormai tutta l'adesione emotiva è pericoloso nel senso si crea questa dinamica che è binaria no? cioè o con me o contro di me e questo è estremamente pericoloso e l'antidoto a questa cosa non è cancellare la gente è farla parlare di più però con qualcun altro che esprima in maniera civile delle altre idee esatto infatti se dobbiamo commentare questo caso specifico il tema è che se c'è qualcuno che dice cose anche un po' stupide in maniera sistematica magari gli puoi dare anche un po' meno rilevanza che insomma non è cancellare magari trovi qualcuno che ha una prospettiva diversa ma che può articolare in modo più sofisticato e più intelligente quel tipo di opinioni il punto così come nel metodo scientifico il dibattito è quello che crea la verità e quando un'opinione è sbagliata o una teoria è sbagliata in modo consistente diventa irrilevante cioè non se ne parla più non perché ha impedito a qualcuno di denunciarla ma perché si percepisce che non è rilevante in questo caso specifico probabilmente un po' di martirio è stato creato anche dal fatto che il personaggio ha avuto un eccesso di visibilità non meritata e non penso che il fatto di non dargli troppo spazio non sia una cancellazione in questo caso no non credo che nel caso specifico sia stato cancellato mi sembra che sia ancora adesso il caso esatto non è stato cancellato è stato esaltato anche un po' rotto però adesso nel caso della LUIS invece del sito è coincidenza interessante però non è tanto cioè quello che voglio dire è che però il riflesso automatico ormai c'è cioè c'è qualcuno dice delle cose che comunque hanno peso nella popolazione nella democrazia c'è della gente che pensa così l'idea che in automatico tu debba cancellare quella cosa è perché è sbagliata poi dopo c'è tutto un meccanismo per cui anche gli autori televisivi che invitano questi personaggi ci campano su questa cosa perché crea tensione crea e poi dopo la gente lo guarda ancora di più però il riflesso automatico è preoccupante perché prima non c'era cioè dieci anni fa non ci sarebbe mai stato dieci anni fa un orsini sarebbe andato in televisione avrebbe detto la sua cosa ma l'avrebbero invitato forse altre due volte e sarebbe finita là sì però anche qua torniamo di nuovo al modo in cui funziona i social media cioè che sono strutturalmente concepiti per creare engagement per creare delle conversion cioè perché per produrre azioni da parte delle persone e il nostro cervello rettile è agganciato da questi sistemi che sono disegnati per agganciarlo quindi purtroppo questa è la loro logica tu dicevi prima che sono tecnologie che possono essere usate anche in maniera positiva e non c'è dubbio su questo l'accesso alle informazioni non solo digitali anche usare digitale come porta per riuscire a trovare libri introvabili ad esempio eccetera eccetera è molto interessante io lo uso anche tranquillamente però al tempo stesso è anche innegabile che abbia molto molto reso frivola la nostra vita ma è capitato di recente di rileggere delle lettere perché una volta noi scriviamo le lettere da ragazzi alle ragazze le ragazze scrivono le lettere eccetera anche fra amici magari no però le ragazze sicuramente scrivono qualcuno se le scrive anche fra uomini magari però le ragazze molto se tu vai a vedere questo genere di documento e li confronti con la complessità quotidiana con cui si confrontano invece i ragazzi di quell'età diciamo l'età del liceo delle superiori oggi è oggettivo è oggettivo che che c'è una grossa diminuzione di di profondità e questo non è necessario non è probabilmente una questione biologica è una questione di alternative nel senso se tutto il tuo tempo di attenzione viene speso su stimoli istantanei continuamente e tra l'altro molto forte dal punto di vista del richiamo anche e del feedback che sono in grado di darti è chiaro che non scenderai mai sotto la superficie e questo al netto del fatto che poi internet offre tutta una serie di potenzialità però quelle potenzialità devi esserti se non hai il bisogno precedente di andare ad usarle è difficile è difficile capito che tu abbia quel bisogno se sei sempre stato in superficie il fatto che internet ti apra la possibilità ad andare a fondo infinite possibilità per molti versi può diventare una cosa un po' aleatoria però per non farci sentire troppo boomer diciamo l'altro lato della medaglia la cosa che vedo però nelle persone giovani in questo momento che sono nate e sono vissute con piattaforme in alto tasso di engagement e che devo dire che però hanno una capacità di comprensione simultanea di stimoli molto forte a volte una comprensione della complessità che sembra paradossale però piuttosto elevata capacità di reagire agli shock molto elevata molto diversa rispetto a chi è vissuto qualche decennio prima quindi secondo me se tu sei vissuto con il gaming e con i social media hai anche qualche skill in più rispetto a chi è venuto prima di te così per darti un po' una visione per fare un po' l'avvocato del diavolo ma no ne avrai di più ovvio nel senso non lo metto in dubbio su alcune cose i cambiamenti molto difficilmente sono unilateralmente negativi può succedere se ti buttano una bomba nucleare sulla città è difficile che Roma nuclearizzata sia meglio di come era prima però in generale nei processi umani perdi qualcosa guadagni qualcosa però io non so anche ai tempi di Plutarco ci si lamentava dei giovani quindi no ma io non mi lamento dei giovani no assolutamente mi lamento diciamo del fatto che l'ecosistema informativo in cui viviamo oggi incentiva in maniera importante la superficialità tutto qua non è questo è il fatto mi sembra anche mi sembra anche capito cioè forzarsi a dire che il nuovo è sempre positivo è un altro un altro abitus un po' sbagliato secondo me non anche dire che è tutto negativo però è inutile negare negare capito le problematiche poi tu dici tanto non ci si può fare niente perché comunque forse l'unica legge veramente inevitabile della passare del tempo è l'aumento della tecnologia per certi aspetti no sì diciamo quello che si può fare sarà fatto il possibile però il possibile è dare quantomeno gli strumenti per per chi per chi vi riesce o può raccoglierli o ha le condizioni per raccoglierli per per andare in profondità non è semplice ne avete parlato anche nelle puntate passate in relativa alla scuola però è sicuramente un tema a cui prestare attenzione sì a scuola io guardo ti giuro sono felice di 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 non dovermi occupare io perché mi sembra veramente complicata la soluzione di quel di quel problema perché appunto c'è troppa competizione c'è troppa competizione per l'attenzione no ehm c'è un'infinità di possibilità diventa una questione ma io stesso mi rendo conto che nella mia vita non esiste esiste molto non so la tua ma molto di rado dei momenti di di noia di nulla cioè anche quando faccio delle cose che in cui non posso leggere non posso scrivere mi ascolto dei podcast in genere anche abbastanza densi dal punto di vista informativo eccetera ho ridotto tantissimo nel tempo quasi a zero ma veramente quasi a zero la quantità di tempo improduttivo però mi rendo conto che anche quello ha una valenza poi e diciamo il tempo profondo e il tempo di concentrazione prolungata ha un valore sempre maggiore oggi è un po' il lusso che si cerca che è uno dei lussi contemporanei potersi isolare poter avere delle essere in grado perché molti possono in teoria ma poi non sono in grado avere dei momenti prolungati con se stessi e con gli oggetti e le relazioni o i frutti della propria creatività quindi questo è sicuramente un tema su cui tutti dobbiamo lavorare no ma infatti io mi rendo conto che quando scrivo mi scrivo in isolamento pressoché totale raggiungo degli strati del cervello per così dire cioè degli stati psichici che sono del tutto inaccessibili nella vita normale infatti una cosa che io faccio anche quando faccio dei lavori che non sono sempre di scrittura ma che non sono legati a dei miei libri io comunque utilizzo utilizzo whatsapp diciamo le chat eccetera ma in maniera molto molto contingentata che altrimenti distrugge secondo me la creatività nel senso a parte che è consumante cioè se io faccio una giornata dove scrivo e devo leggere e rispondere a molti messaggi su whatsapp è molto più stancante che fare tantissime altre cose proprio dal punto di vista psicologico secondo me però mi rendo conto che è un lusso incredibile mi rendo conto che ormai ci sono le chat dei gruppi di lavoro dove la gente scrive fuori dagli orari di lavoro eccetera questa roba qua è inquinamento importante secondo me andrebbe molto contenuta questa cosa poi la cosa interessante è che questa tematica dell'accelerazione è un po' penetrata in parte nei dibattiti contemporanei cioè anche la corrente di pensiero dell'accelerazionismo in tutte le sue declinazioni di destra di sinistra neutrali filosofiche politiche e così via questo a mio giudizio è stata una delle correnti curiose da osservare anche se non troppo rilevanti poi nella concretezza negli ultimi anni ma vedi noi in passato abbiamo avuto un eccesso chiaramente di derivazione a livello contingente era un'emanazione negli ultimi decenni dell'ideologia marxista comunista sui mondi possibili alternativi eventuali poi spesso e volentieri anche di basso livello cioè molto banale molto retorica eccetera eccetera in passato questa questa capacità di pensare una realtà diversa era invece appaltata alla religione o alle religioni adesso questa capacità diciamo di immaginare un mondo parallelo eventuale possibile si è asciugata moltissimo e forse rientrerà in un ambito tecnologico appunto col metaverso eccetera eccetera però il metaverso è una particolarità che non lo costruisci tu comunque è sempre un'emanazione di società private che seguono delle logiche diverse da quelle della sia dell'ideologia sia della semplice immaginazione individuale poi c'è il tema del vai scusa no no assomiglia un po' per certi versi anche al discorso dello spazio cioè l'idea una delle cose che ci attraggono nello spazio a meno a livello inconscio è che vedi vedi te stesso da fuori vedi la terra da fuori sì lo spazio anche questa secondo me tra le prospettive attuali anche a livello soggettivo è molto interessante perché ti offre una visione del futuro ti offre una visione in cui ha un senso il futuro dell'umanità ha senso fare degli sforzi ha senso investire ha senso fare delle cose economiche a lungo termine ha senso collaborare andare oltre i conflitti nazionali etnici religiosi ha un senso studiare cose molto difficili cioè è una bella prospettiva una prospettiva molto profonda molto motivante secondo me è una delle cose che personalmente mi attraggono e mi sembra molti di quelli che operano in questo ambito e poi specialmente oggi in cui le prospettive che tu puoi pensare per l'umanità sono prospettive spesso catastrofiche la catastrofe climatiche la catastrofe di un potenziale conflitto statuniticina o di rivoluzione del conflitto attuale la catastrofe delle risorse energetiche le catastrofe pandemiche tutti ambiti in cui il concetto stesso di futuro va a livello macroscopico va a avere un punto interrogativo tema spazio secondo me è un ottimo chiavistello per superarle per andare oltre e per avere una visione ottimistica o quantomeno motivante in un certo senso se avere una prospettiva di lungo di lungo periodo equivale ad avere una prospettiva cioè nel senso io invecchiando penso che sia difficile avere una prospettiva che non sia di lungo periodo equivale a non avere una prospettiva in un certo senso cioè implica tutta una serie di cose una time preference spostata sul futuro che anche questa è sottovalutata attualmente la società attuale è tutta focalizzata sul qui e ora non solo politicamente sul discorso che facciamo prima ma anche banalmente dal punto di vista dei consumi della quotidianità dei sistemi di valori delle aspettative dei desideri delle persone perché poi si può dire sempre male della politica ma poi alla fine se succedono queste cose non è solo una questione sovrastrutturale di come funzionano i media eccetera in larga parte questo ma risponde anche un po' a quelli che sono i desideri profondi della popolazione in un tempo storico quindi sicuramente uno dei motivi per cui magari manca la speranza è perché o spesso manca la speranza o comunque è una sensazione declinante rispetto al passato è proprio perché la prospettiva temporale diminuisce questo mi sembra mi sembra centrale uno degli effetti tipici descritti dai teorici della globalizzazione o anche dell'accelerazionismo è il fenomeno della compressione spazio-temporale il fatto che le distanze si riducono il problema è che questa cosa questa compressione non è solo un vantaggio può diventare frutto di può diventare un motore che porta a una confusione a una complessità mentale porta al cosiddetto tecno-shock al fatto che tu poi hai questa accelerazione che non ti consente poi di di avere il tempo di elaborare le cose fisicologicamente il nostro cervello ha bisogno del tempo per digerire le informazioni i cambiamenti le trasformazioni sociali economiche e gli shock perché ripeto questo per me è un tema veramente fondamentale oggi è evidente che gli shock sono sempre più forti contagiosi e fanno parte del tessuto della realtà cioè dopo la pandemia dopo la guerra ci sarà qualcos'altro ma il fatto che un mondo con 7 miliardi di persone è una forte interconnessione è una fortissimo livello di complessità è verosimile che ci sono altre cose che forse non possiamo neanche immaginare che potrebbero accadere questo tema è interessante secondo me è sicuramente interessante e sicuramente succederà però al tempo stesso forse è anche una questione di ritmi di copertura nel senso che le pandemie ci sono sempre state certo per diffondersi da una parte all'altra del globo ci mettevano più tempo le guerre ci sono sempre state chiaramente adesso ci sono delle armi particolarmente da un lato particolarmente potenti ma dall'altra anche molte sono anche più precise di quelle precedenti no quindi io mi chiedo anche se non sia in larga parte anche una questione da un lato di copertura cioè non succede nulla che non venga ripreso e riproposto poi ovviamente anche la riproposizione segue delle logiche perché una guerra in Yemen non gli affegga niente nessuno la guerra in Ucraina invece è molto importante diciamo molto più mediatica no quindi esiste una componente anche di quel tipo e poi l'altra questione è che siamo avanzando diciamo aumentando il nostro benessere materiale aumenta anche diminuisce la tolleranza ad eventi avversi e soprattutto aumenta la propensione a proteggersi in maniera importante anche tutte le reazioni alla pandemia non sono scontate storicamente cioè si è deciso che la vita era un bene umano inalienabile e che si dovevano fare tutta una serie di sacrifici ok cioè questa cosa questa è una scelta culturale una scelta scontata una scelta culturale che ti permetti fai quando diciamo A te lo puoi permettere e B sei disposto culturalmente cioè per te è culturalmente importante questa cosa quindi sì da un lato è vero che ci saranno shock dovuti alla complessità al fatto che il mondo è globale è tutto interconnesso però al tempo stesso ancora leggevo purtroppo non mi ricordo il nome un articolo di una giornalista francese sul foglio che parlava anche del fatto che la femminizzazione della società ha portato porta da un punto di vista evolutivo anche a una ha una maggiore censura perché il diciamo il il meccanismo conflittuale delle femmine in media è più orientato all'esclusione che non al conflitto frontale cioè banalizzando gli uomini fanno la guerra le donne escludono e la censura è una forma di esclusione io ti escludo dal discorso pubblico e l'altra questione è l'eccessiva protezione il protezionismo materno che si fa a sistema c'era un bellissimo libro che si chiama The Coddling of American Mind di Jonathan Knight di un altro ricercatore di questo non ricordo il nome ma che trovate sempre nell'archivio dei libri che parla proprio della della crisi educativa in America però e di come il sistema di educazione che lì è molto più articolato che da noi perché c'è più privato un misto c'è anche quello confessionale però tendenzialmente si è diventato molto più protettivo protettivo in maniera grottesca anche cioè in molte scuole hanno abolito i punteggi nelle partitine cioè se fanno una partitera di calcio o di basket non tengono il punteggio perché sennò poverino ci sono i bambini che perdono ovviamente questa cosa qua è altamente non pedagogica pericolosa perché poi nella vita ti capiterà di perdere si spera anche qualche volta di vincere però insomma vittoria e sconfitta fanno parte dell'esistenza quindi sarebbe bene prepararsi a questa cosa e quindi secondo me sintetizzando quello che voglio dire siamo anche in un paradigma di iperprotezione e quindi da un lato c'è effettivamente perché poi spesso ci sono questi fenomeni contrari ma entrambi in aumento che sembra controintuitivo ma non lo è cioè nel momento in cui effettivamente aumenta la complessità e i rischi legati alla complessità aumenta anche il desiderio di protezione e quindi probabilmente sono entrambe le cose sono un po' confliggenti apparentemente ma sono tendenze contrarie ma entrambe probabilmente in crescita sì diciamo siamo anche vissuti in una bolla storica molto particolare nel senso che dalla seconda guerra mondiale in poi c'è stato un momento di una fase storica di pace e prosperità prolungata molto intensa per diversi paraesi in particolare in occidente quindi questa cosa chiaramente non è non è la regola della storia la regola della storia è l'opposto la regola della storia è un tipo di conflittualità e di carenza di risorse molto maggiore questa cosa chiaramente ha avuto degli effetti ora il mondo sta cambiando di nuovo in particolare quello che vediamo diciamo nei cicli presenti nella politica che quando c'è una transizione egemonica o una potenziale transizione egemonica e quindi gli equilibri di potere divengono instabili chiaramente accadono crisi finanziarie guerre e fenomeni radicali come quelli che stiamo vedendo adesso quindi sicuramente non siamo preparati nell'affrontarlo quantomeno culturalmente non c'è necessariamente il dna per farlo ripeto secondo me cioè una delle tematiche fondamentali per l'education l'istruzione nel futuro è fornire alle persone gli strumenti di base per connettere discipline avere capacità di ragionamento profondo avere quel tipo di tempo creativo che serve di fatto in tutte le professioni moderne non serve soltanto per chi fa l'autore oggi se devi ragionare in quel modo per fare cose importanti in tutti i settori perché tutto ciò che non ha quel tipo di profondità viene automatizzato che sia cognitivo o manuale e sono problemi non necessariamente storicamente affrontati in passato alcuni sì però sono anche in parte problemi inediti e dobbiamo capire come affrontarli se qualcuno ci ha seguito fino a qua credo di sì in realtà perché poi le puntate hanno sempre un come si dice un tempo di ascolto medio molto molto elevato e voi adesso al fondo di investimento per lo spazio che ricordami come si chiama quello primo space è un fondo di venture capital quindi investiamo in imprese d'alto rischio alta crescita e tipicamente nella prima fase del ciclo di vita e lo facciamo prendendo quote di queste aziende con l'obiettivo poi di rivenderle dopo anni e anni a un valore maggiore state cercando qualcuno anche? magari ti manda qualche curriculum allora nel fondo in questo momento non stiamo assumendo però le nostre start up stanno assumendo parecchio quindi chiaramente molti profili sono di natura ingegneristica ma ci sono anche profili di analisti finanziari marketing comunicazione presenti in queste imprese li trovate poi tutti i nomi di queste imprese sono disponibili su internet e molti li rilanciamo anche sul nostro canale lì senti scusami una cosa ti devo chiedere ma cos'è la storia dello spazio porto a Grottaglie? allora diciamo per alcune tipologie di voli in particolare i voli cosiddetti suborbitali che quindi non sono dei lanci veri e propri come quelli che fa SpaceX è possibile riqualificare aeroporti tradizionali in particolare aeroporti militari per effettuare quel tipo di operazioni che sono un segmento del 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 trasporto che potrebbe crescere in futuro grottaglie vogliono fare qualcosa di simile e e in generale diciamo si sta cercando di riconfigurare tutta una serie di strutture presenti in Italia ma anche all'estero per quelle che sono le industrie ad alta crescita come appunto quella spaziale va bene i cancelli del cielo lui seditore come sappiamo gli amici di Orsini scherzo economia e politica della grande corsa allo spazio 1950 almeno secondo twitter questa era 2050 Alessandro Resu e Raffaele Mauro con cui abbiamo parlato oggi lo trovate nella descrizione come tutti i libri degli ospiti e altri consigli di lettura va bene grazie Raffaele e buona serata grazie che la forza sia con voi ciao ciao